Purtroppo non sono buone le notizie provenienti dalla celta SPA di Tortoreto. Questo perché la direzione aziendale ha annunciato al tavolo sindacale nazionale che fra i quattro stabilimenti presenti sul territorio nazionale e quello di Tortoreto sarà sacrificato e dunque chiuso. Ricordiamo che attualmente la celta è in una situazione di preconcordato preventivo in quanto nei conti del gruppo è stato riscontrato un buco da 47 milioni di euro. Gli stabilimenti produttivi sono 4 a Tortoreto, Accadeo, Piacenza, Roma e Avellino per un totale di circa 260 dipendenti, di cui 80 a Tortoreto. Ad annunciare la situazione sono stati il segretario della FIOM CGL Mirko D'Ignazio e quello della FIM CISL Marco Boccanera a seguito del confronto avvenuto nella sede romana di Confindustria del quale l'azienda ha confermato il medesimo intendimento di chiusura di Tortoreto e il ridimensionamento degli altri siti, che ha trovato la forte contrarietà delle organizzazioni sindacali. Il coordinamento nazionale quindi ha ritenuto di coinvolgere nella discussione il commissario e lo stesso Tribunale di Milano, competente territoriale. La richiesta di concordato preventivo è stata infatti depositata al Tribunale di Milano e la sezione fallimentata ha dato tempo alla celta fino al 1 aprile per produrre una proposta definitiva con il piano concordatario. Sostanzialmente i sindacati vogliono capire quanto è concreto l'annuncio che si basa sul possibile ingresso di un finanziatore a cui interessano solo i campi della cyber security e dell'energia a pannaggio degli altri stabilimenti e non quello delle telecomunicazioni che si svolge a Tortoreto. In alternativa agli 80 licenziamenti la celta offrirebbe a 25 degli 80 lavoratori di Tortoreto un trasferimento a Roma. Nella capitale verrebbero anche trasferiti i 4 lavoratori dello stabilimento di Avellino piccolissimo che sarebbe chiuso. Una situazione su cui i lavoratori hanno dato mandato alle organizzazioni sindacali di chiedere la convocazione di un incontro al prefetto di Teramo, Graziella Patrizzi in concomitanza del quale sarà indetta una giornata di sciopero ed un contestuale presidio di lavoratori davanti alla prefettura. L'incontro servirà a coinvolgere tutte le istituzioni territoriali e nazionali affinché venga salvaguardato il futuro occupazionale del sito Teramano si legge in una nota dei sindacati. L'obiettivo è dunque quello di arrivare subito a un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico dato il particolare momento di transizione dell'amministrazione regionale.